Ciao a tutti, sono Riccardo e frequento la prima C della Scuola Media Don Bosco Brescia e oggi voglio raccontarvi la mia scuola. Venite con me. Qui ci troviamo nel laboratorio di fisica e chimica dove gli studenti stanno facendo lezione. Ciao Riccardo, questo è il logo speciale perché qui riusciamo a scoprire come funziona la natura e le forze intorno a noi. Ti va di provare? Non c'è modo migliore di imparare ad aggiustare auto e moto che lavorare in una vera e propria officina. Ciao Riccardo, benvenuto nel laboratorio motoristico. Qui smontiamo e rimontiamo motori di ogni tipo e in officina impariamo a fare il tagliando delle auto. Ti va di aiutarmi? Questo è il laboratorio di elettronica ed elettrotecnica. Laboratorio di informatica Nelle nostre aule non solo tecnologia ma anche didattica all'avanguardia. Ampi spazi per lo studio e momenti formativi. Don Bosco Brescia, semplicemente la mia scuola. Don Bosco Brescia, semplicemente la mia scuola.